28 gennaio 4 e 11 febbraio sono le date della prossima edizione del carnevale di fano 2024 mentre l'ente carnevalesca sta stilando il programma ufficiale della manifestazione più dolce d'italia dal 1347 ai capannoni dei carri i carristi sono al lavoro da circa un mese e mezzo per la realizzazione delle opere allegoriche di prima e seconda categoria tema dell'edizione del prossimo anno come riportato dal nuovo manifesto firmato da andrea giomaro è fuori dalle righe e dagli spazi a fine maggio siamo stati a bruxelles e abbiamo presentato in larghissimo anticipo il tema del carnevale 2024 e il nuovo manifesto il nuovo tema appunto che il viaggio col voulon fuori dalle righe dagli spazi perché fuori dalle righe dagli spazi perché le nostre tre parole chiave sono state disturbo musica e futuro e il futuro che non dimentichiamo mai perché dobbiamo appunto andare in viaggio col voulon verso il futuro un altro tema importante approfondito dalla presidente della carnevalesca gian marioli è quello dei finanziamenti quest'anno il ministero ha messo sul capitolo carnevali storici un milione di euro in più per i carnevali con più di 600 anni e ovviamente in italia sono pochi i carnevali con così longevi circa 5 o 6 e tra cui ovviamente noi che siamo più antichi quindi abbiamo potuto accedere ad un finanziamento molto più alto rispetto agli altri anni cioè di 160 mila euro ovviamente vorrei sottolineare che questi soldi non sono per pagare le manifestazioni carnevalesche o eventuali pagamenti che abbiamo di spesa corrente ma sono soldi dati su un progetto preciso che noi abbiamo che abbiamo stilato insieme al comune ovviamente quindi ecco non si pensi che questi fondi possano essere utilizzati per qualsivoglia operazione ma su un progetto preciso che è stato presentato ad esempio all'interno del bando è stata inserita la realizzazione di un importante docufilm con la regia di andrea lodovichetti che ha il fine di promuovere il carnevale all'interno di festival più importanti del cinema italiano e anche europeo per quanto riguarda l'edizione del prossimo anno cosa possiamo dire siamo al lavoro ovviamente per la nuova edizione il programma 2024 è quasi pronto i maestri carristi sono al lavoro per i nuovi carri ci sono varie varie novità quindi nuovi carri di prima categoria di seconda categoria quindi vi ricordo che le date del carnevale sono 28 gennaio 4 e 11 febbraio grazie a tutti